Manca un confronto con i portatori di interesse, una linea politica, ma soprattutto ci si preoccupa più di discutere su chi deve presiedere la specifica commissione, piuttosto che avviare una discussione su quale deve essere il ruolo dell'Abruzzo nella grande partita delle autonomie. A segnalare questa fase di stallo, lo consigliere regionale del PD, Silvio Paolucci. Noi vogliamo sapere qual è l'opinione del presidente Marsilio, qual è l'opinione di questa maggioranza, qual è l'opinione della Lega Salvini-Abruzzo, non la Lega Salvini-Lombardia o Veneto, e vogliamo sapere quale sarà la posizione della nostra regione rispetto a questo grande tema che rischia di dividere il paese, ma di sottrarre alla regione Abruzzo tantissimi, tantissimi soldi. Punto centrale, infatti, secondo Paolucci, quando si parla di autonomia alle regioni, la questione delle risorse. Io voglio ricordare che nel mezzogiorno del nostro paese, quindi nel centro-sud, vivono il 34% delle persone, eppure gli investimenti negli ultimi anni, per esempio sull'alta velocità, sono stati appena il 16%. Allora, prima bisogna parlare di risorse. Davvero in questa nostra parte del paese arrivano le stesse risorse che sono arrivate altrove? Non è vero. Non è vero sull'infrastruttura, non è vero sull'alta velocità, non è vero sull'intermodalità, sulla portualità. Quando noi ci metteremo d'accordo su questi grandi temi e li riconosceremo tutti insieme nel paese, allora si può parlare di funzioni ulteriormente delegate, altrimenti è una sottrazione vera e propria di risorse, e noi non possiamo starci.